sarà un pomeriggio bellissimo per le mirko bonetti oggi si rincontreranno a napoli pensate un po anno c'era inferiore e sarà un pomeriggio fantastico i due ragazzi incontreranno i fan a partire dalle 18 insomma un'occasione speciale per incontrare da vicino i nostri beniamini che stanno girando tutta l'italia e perfino i weekend saranno super intensi per i perletti i due ragazzi sono pieni di impegni mirko bonetti in particolare non si è fermato un attimo insieme ad altri concorrenti del grande fratello sta girando tutta l'italia da nord al sud ed è amato da tutte le generazioni intanto perla prima dell'incontro con mirko è stata con la sua sorellona e hanno cenato e hanno mangiato di tutto stavolta senza pensare alla dieta ragazzi questo è il male anzi no come dico io è la felicità stasera mi tocca lo mangio è un french toast comunque non proprio come li faccio io quelli fit ma la posta pure in parecchie associazioni seguiti associazioni